Tante verdure in frigo o in dispensa e non sapete cosa preparare? Vi suggerisco questo tortino vegetariano semplicissimo, ricco di ingredienti, colorato e molto nutriente. Oggi ho scelto di utilizzare 500 g di zucchine, 400 g di patate, 200 g di pomodorini, della mozzarella per pizza, una grande cipolla, del pan grattato, una manciata di parmigiano ed erbe aromatiche come il rosmarino. Per questa ricetta tengo pronti tutti gli ingredienti, elimino l'estremità delle zucchine e le taglio a rondelle di circa mezzo centimetro. Vado anche a sbucciare la cipolla e a tagliarla per ricavarne degli anelli molto sottili, quasi trasparenti. Pelo le patate e le riduco a fettine sottilissime utilizzando una mandolina. I pomodori invece dopo averli lavati li taglio in due o tre parti a seconda della loro grandezza. Preparo anche la mozzarella per pizza, anche questa a fette. Adesso teglia, preferibilmente con apertura a cerniera, ma va bene anche una pirofila. Sporco il fondo con un filo d'olio e qualche manciata di pan grattato che aiuterà ad asciugare l'acqua che rilasceranno le zucchine. Inizio a formare il primo strato di zucchine addossandole leggermente l'una all'altra. In questo modo non lascio spazi vuoti. Procedo aggiungendo metà della mia cipolla, aggiusto con un pizzico di sale e pepe e cospargo con pan grattato, appunto per asciugare l'acqua di vegetazione che si produrrà in cottura. Aggiungo anche qualche pomodorino, un filo d'olio per condire e poi uno strato di patate. Anche su queste un pizzico di sale, una macinata di pepe nero per renderle saporite e qualche aghetto di rosmarino. Manca solo la scamorza da distribuire equemente su tutta la superficie e possiamo procedere nuovamente con tutti gli ingredienti. In ordine le zucchine, le cipolle, ancora un pizzico di sale, di pepe e di pan grattato e poi ancora i pomodorini, un filo d'olio. E questa volta invertiamo l'ordine, quindi prima la mozzarella e infine le patate, che in questo modo avranno la possibilità di dorare e diventare leggermente croccanti in superficie. Ultimiamo con qualche aghetto di rosmarino, un pan grattato e parmigiano a piacere. Un pochino di olio. Abbiamo completato questo lavoro, possiamo mettere in forno già caldo in modalità statica a 170 gradi per circa 45 minuti. Potete usare se preferite il forno ventilato, ma vi consiglio comunque di non alzare troppo la temperatura, perché tutti gli ingredienti dovranno avere il tempo di cuocere bene ed ammorbidirsi. Una volta cotto lasciate riposare il tortino per qualche minuto, aprite lo stampo, potete servirlo così ancora tiepido per gustare anche il formaggio filante, che lo renderà davvero goloso e piacevole. Per tante altre idee vi aspetto sui nostri siti cibodoc.it e vivomangiando.it